Anche io, anch'io! Sì, ora mi saluta! L'appuntamento è sempre qui, stessa radio! Anche lo scoiattolo con le palle enormi! Anche Google con i pene giganti! Sì! Stessa radio, stessa ora, stesso programma con Svalvolati On Air! Ciao! Wuhuu! Questo è Svalvolati On Air! Grazie a tutti! Grazie a tutti!